Ciao a tutti e bentornati a una nuova Aperistoria. Quando pensiamo alla Prima Guerra Mondiale, la prima cosa che ci viene in mente, soprattutto se pensiamo al fronte italiano, piuttosto che ad esempio al fronte occidentale, sono le trincee, una guerra di posizione, una guerra in cui migliaia di soldati si affrontano e muoiono quotidianamente per la conquista di pochissimi metri. Qualcosa che se ci pensate abbiamo raccontato anche qualche giorno fa nella recensione del film. Bene, in realtà quello che a volte ci si dimentica è che la Prima Guerra Mondiale, su quei fronti, sul fronte occidentale, divenne una guerra di posizione non da subito, ma solo dopo qualche settimana. Qualche settimana in cui invece i tedeschi condussero una tradizionale guerra di movimento che nel loro obiettivo avrebbe dovuto spezzare qualunque resistenza da parte dei francesi e degli inglesi, condurli rapidamente a Parigi e permettere loro di vincere la guerra in pochissimo tempo. Questa guerra di movimento venne organizzata secondo le direttive del cosiddetto piano Schliffen che prevedeva l'attacco, l'aggressione del Belgio, che teoricamente era uno stato neutrale, aggressione del Belgio che peraltro fu quella che poi portò ufficialmente Inghilterra a scendere in campo, un'aggressione del Belgio che avrebbe dovuto sulla carta permettere alle truppe tedesche di aggirare la resistenza delle truppe francesi, piombando loro addosso da nord, e mettendo quindi fuori gioco le armate francesi per catturare rapidamente Parigi. Ad opporsi a questo tentativo di sfondamento, oltre alle truppe francesi che, a dir la verità, vennero in realtà rapidamente sconfitte, c'erano però anche delle forze inglesi, il British Expeditionary Force, il quale dopo essere stato approntato molto rapidamente era stato fatto sbarcare proprio nella parte più occidentale della Francia e del Belgio, logicamente quello che andava verso il mare, verso il canale della Manica, e qui si preparava ad affrontare le avanguardie estreme dell'esercito tedesco. L'avanzata dell'esercito tedesco fino a quel momento, seppur più lenta rispetto a quanto verrà poi nella Seconda Guerra Mondiale, ma per ovvi problemi di motorizzazione che non c'era, ci si spostava ancora a piedi, l'avanzata dell'esercito tedesco fino a quel momento era stata praticamente infermabile e molti credevano che l'esercito inglese, che non affrontava una guerra sul continente europeo, pensate dalla guerra di Crimea, non fosse in nessun modo pronto ad affrontare un esercito così professionale, così temprato come quello tedesco. In realtà gli inglesi sbarcarono inizialmente delle forze che erano state preparate, non si trattava di soldati che erano stati reclutati da poco, frutto della leva, ma si trattava di soldati addestrati da moltissimo tempo. Il loro settore fu quello di Monn in Belgio e fu proprio lì che il 23 agosto del 1914 per la prima volta tedeschi e inglesi si affrontarono. La battaglia fu fin dall'inizio impare, i tedeschi erano più numerosi, erano meglio armati e sembrarono fin dall'inizio poter far polpette degli inglesi, anche perché, questo ce lo raccontano i generali tedeschi, nelle ore precedenti allo scontro avevano proprio deriso gli inglesi chiedendosi perché fossero sbarcati, avessero abbandonato la protezione del mare per venire a combattere sulla terra, cosa sostanzialmente in cui si diceva in cui non erano capaci. Invece gli inglesi riuscirono a resistere e lo fecero in maniera molto ordinata, ritirandosi lentamente, costringendo i tedeschi ad avanzare in una situazione in cui, ovviamente lo sapete, le armi difensive, a cominciare dalle mitragliatrici, avevano facilmente la meglio degli attacchi e infliggendo ai tedeschi delle perdite colossali. Alla fine però, dopo 48 ore di combattimenti, anche gli inglesi furono stremati e saputo peraltro che il fronte francese stava crollando e temendo addirittura di essere loro stessi accerchiati, decisero di iniziare a ritirarsi e dopo essersi sganciati dai tedeschi, iniziarono ad arretrare sempre più indietro, cercare di allontanarsi dai combattimenti. A questo punto, in una maniera che ad alcuni appariva del tutto inspiegabile, gli inglesi si resero conto che i tedeschi non li inseguivano, ma che li lasciavano andare e questa ritirata, che sarà poi chiamata la grande ritirata, proseguì in maniera ordinata, permettendo agli inglesi di arretrare, di mantenere compatto il proprio esercito, ricompattarsi con i francesi che intanto si stavano, anche loro arretrando, stavano arretrando verso Parigi e organizzare una nuova resistenza che porterà alla battaglia della Marna, la prima battaglia della Marna, la battaglia che a tutti gli effetti fermò definitivamente l'avanzata dei tedeschi e diede il via, se così vogliamo dire, alla guerra di posizione, alla guerra di trincea sul fronte occidentale. Come vi dicevo, alcuni si chiesero perché i tedeschi non avessero inseguito gli inglesi, se ci fossero riusciti, se li avessero agganciati, li avessero distrutti, fossero riusciti a fare a pezzi il loro colpo militare, probabilmente la battaglia successiva a quella della Marna sarebbe stata molto più facile e chissà, forse i tedeschi avrebbero potuto vincere, conquistare Parigi e sostanzialmente vincere la guerra. Nei giorni successivi alla battaglia di Mon, quindi, iniziarono a diffondersi delle leggende e una di queste fu ripresa da un giornale inglese esattamente un mese dopo. Quel giornale, infatti, pubblicò uno scritto in cui si raccontava che, mentre gli inglesi avevano iniziato a ritirarsi, improvvisamente nel cielo erano apparse delle figure angeliche. Secondo alcuni si trattava proprio di angeli, che erano apparsi con tanto di ali, con le loro spade fiammeggianti per attaccare i tedeschi. Secondo altri, invece, si trattava di spiriti, e non erano nient'altro che gli spiriti degli arcieri inglesi che erano morti durante la battaglia di Asincur, o che comunque alla battaglia di Asincur avevano partecipato. Battaglia che, se vi ricordate, avvenne durante la Guerra dei Cent'anni, e in cui Enrico V, inglese in nettissima inferiorità numerica, riuscì a sconfiggere i francesi. Ci abbiamo già dedicato una pillola, ve la metto magari in descrizione. La cosa, ovviamente, fin dall'inizio fu presa un po' sul ridere, e qualcuno diceva che si trattasse semplicemente di un'allucinazione, ma ad un certo punto iniziarono ad arrivare anche delle lettere da parte di soldati che confermavano la cosa, dissero di averli visti loro stessi, o che la cosa gli era stata raccontata da un commilitone, e poi addirittura i cappellani militari iniziarono a confermare il tutto. La cosa, ovviamente, rimase utilizzata dalla propaganda inglese, che cercò in questo modo di risollevare lo spirito dei suoi soldati, cercando di dire sostanzialmente che addirittura qualcuno dall'oltretomba era intervenuto per aiutarli. D'altronde siamo in un'epoca in cui tutti gli eserciti erano convinti che Dio fosse con loro. Che cosa successe realmente? Beh, ovviamente non lo sappiamo. Secondo maggior parte degli storici si trattò in realtà veramente di un caso di autoconvincimento, nel senso che la cosa iniziò a essere raccontata da qualcuno, passò ai cappellani militari che la diffusero tra le truppe, e ad un certo punto alcuni iniziarono a dire di aver visto quelle luci quando magari si trattava semplicemente di luci di esplosione. Ma perché allora i tedeschi si erano fermati? Beh, questo in realtà lo sappiamo grazie ai diari dei comandanti tedeschi, perché nonostante a tutti gli effetti a ritirarsi fossero stati gli inglesi, i tedeschi fin da subito si resero conto che quella battaglia loro l'avevano persa, perché sì, erano rimasti padroni del campo, ma non solo erano stati fermati per 48 importantissime ore, perché in quell'attacco una delle cose più importanti era il tempo, ma addirittura il loro esercito era stato a tal punto stremato che nei giorni successivi ci mise parecchio a riorganizzarsi e a far ripartire l'avanzata. Insomma, non erano stati gli angeli, non erano stati gli spiriti degli arcieri di Asinkur, ma era stato il coraggio, la forza e l'abilità degli inglesi, che i tedeschi avevano così tanto sottovalutato, a fermare i tedeschi e impedire loro di avanzare, e probabilmente a salvare la Francia dall'invasione, cambiando in questo modo poi il destino della Prima Guerra Mondiale. Chissà cosa ne sarebbe stato del mondo se avessero vinto i tedeschi, ma questo è argomento per un'ucronia. Una ventina di anni fa un giornalista improvvisamente tirò fuori la notizia bomba dicendo «Ah, la storia degli angeli di Mon, così vengono chiamati, è verissima. Io ho le prove, ho un diario, ho addirittura delle immagini che lo mostrano». E ovviamente la notizia rimbalzò tantissimo perché si trattava della prova di un evento soprannaturale, peccato che poi a distanza di poco tempo venne fuori che si era inventato tutto e lui stesso fu costretto a rimangiarsi. Ma insomma qualcuno ci crede a questa storia e dice che è impossibile che così tante persone abbiano sognato un'apparizione di questo genere. Se sia vero o no, ovviamente io lo lascio a voi. È bello ogni tanto anche provare ad immaginare una storia alternativa se volete farlo. Questa mi sembra abbastanza interessante. Io mi fermo qua. Era una storia particolare. Sono curioso di sapere da voi cosa ne pensiate anche perché, ok, possiamo dirci che angeli, spiriti non sembrano appartenere alla realtà ma oggettivamente in questo caso gli storici si devono fermare perché più che far congetture non possono dire ufficialmente che quelle cose non siano state viste. Poi magari erano gaze, chissà, nessuno lo sa però in effetti è possibile che qualcosa sia stato visto o magari confuso per qualcos'altro. E quindi a cosa brindiamo? Beh, parliamo di Prima Guerra Mondiale. Voi lo sapete che io ho un sacro terrore di questa guerra nel senso che la trovo uno degli eventi peggiori della storia dell'umanità e quindi come sempre non posso che brindare magari utilizzando del gin, visto che in questo caso parliamo di inglesi non posso che brindare purtroppo nel ricordo di tutti coloro che per la decisione di pochi grandi capi di Stato hanno perso la vita in quella guerra assurda in quella guerra che da molti ha strappato la vita ad altri ha strappato letteralmente l'umanità. Quindi alla loro salute anche se purtroppo sono mancati alla vostra. E a presto!